Man mano che passano le settimane e vengono aperti i segmenti dei cantieri delle opere compensative realizzate da Autostrade per l'Italia, in conseguenza della realizzazione della terza corsia dell'A14, la nuova viabilità di Fano incomincia a delinearsi sempre più compiutamente. Questa mattina, dopo l'apertura recente della grande rotonda su Via Roma, è stato presentato il pezzo che a breve verrà aperto e che metterà in comunicazione la Flaminia con la strada provinciale 45 in località Belgato, alleggerendo del traffico quindi tutta la zona Trave e Poderino in direzione Pesero che proveniva anche dall'interno. Ci avviamo alla conclusione della realizzazione di queste opere che sono opere importanti sotto gli occhi di tutti. Questo tratto qua che diciamo dalla Flaminia porta a Belgato, alleggerirà molto, specialmente all'interno dei quartieri, ma anche la Bretella Sud che si sta avviando alla conclusione, qui dalla zona Tombaccia con l'attraversamento a monte del Metauro. Sono opere importanti, anche di costi significativi che portano un bel sollievo. Rimane ora da risolvere il nodo più cruciale, ovvero lo sbocco verso Pesero che ora non c'è, dato che tutto il flusso è in direzione nord, finisce in quel cul de sac che è la zona Trave. Sì, adesso la parte debole è quella, su questo noi stiamo ragionando. Ricordo che abbiamo avuto altri 20 milioni da utilizzare dalla regione per migliorare la viabilità verso Pesero, anche questo è un grande risultato che vantiamo. Al momento abbiamo realizzato questo, il casellino è un obiettivo raggiungibile, ci sono altri 20 milioni e nel frattempo cerchiamo di costituire, come avevamo già fatto in precedenza, un tavolo con tutti i soggetti per ulteriori risorse per realizzare anche altre opere e a quel punto veramente significa che la città sotto l'aspetto della viabilità è a posto per i prossimi 200 anni. Ora sbocco in corrispondenza di Rocco Sambaccio, casellino Fano Nord che sia in previsione del probabile nuovo ospedale a Muraglia un'opzione si dovrà trovare e probabilmente i 20 milioni messi sul piatto dalla regione non saranno sufficienti a creare un nuovo asse stradale. Vedremo, per intanto la notizia confortante è che il cronoprogramma della Pavimental per terminare i lavori in opera è rispettato. Manca poco, diciamo che se tutto procede come abbiamo programmato noi dovremo completare le opere entro fine anno per poterle mettere in esercizio e poi fare le finiture nel nuovo anno quindi ci saranno lavoretti di sistemazione da finire ma insomma le viabilità dovrebbero essere complete almeno questo è quello che abbiamo programmato.